Un pranzo di gala domenica 8 ottobre per festeggiare i 20 anni della mensa Caritas di Piazza Giotto, un servizio sempre più fondamentale. Indubbiamente, basta dire che a questo punto la metà circa degli ospiti abituali della mensa sono italiani in difficoltà o familiare o economica o anche legati a situazioni ambientali. Perciò è un grande servizio di aiuto al prossimo. Sono 20 anni che la mensa funziona ininterrottamente e questo credo che sia un record. Proprio perché Arezzo è la città dell'accoglienza e della solidarietà, con l'arrivo della stagione fredda molte persone verranno ad Arezzo perché c'è il dormitorio in Piazza San Domenico, c'è il centro di urno della Caritas in via Chiassaia. Per questo ci sarà bisogno di ulteriori finanziamenti proprio per continuare a servire il prossimo. Ecco, presenti tantissimi chef tra migliori a livello italiano. Sì, abbiamo raccolto questo invito da parte di Italo che ci ha coinvolto molto emotivamente in questa cosa e insieme abbiamo pensato proprio di creare un menù ad hoc che raccogliesse i sapori del Mediterraneo, molto vicini a quello che è lo stile della dieta mediterranea, grande patrimonio nazionale, mischiandolo con quelli che poi sono i sapori e i ricordi proprio emozionali della cultura retina e della cultura toscana. Ora speriamo che il tutto riesca anche a regalare delle belle sensazioni e che la gente accorra numerosa. A questo punto chiamate a raccolta gli aretini facendo leva sulla loro solidarietà. Sì, speriamo che vengano tanta gente, come sempre, che siamo sempre abbastanza bravi noi i aretini. Ci sarà questo mangio, ci sarà Gabriele, ci farà queste cose mediterranee. Faremo anche un sugo di chianina nostro qui di Arezzo e una scamarrita di maiale della zona, e quel territorio.